questa è la prima attra di un video a Italia Roma la prima attra di un video a tutti i papi la prima attra di un canto a casa di un canto a casa di un canto a casa di un canto tutto il mondo luce quando deve essere tutto il mondo Grazie per la visione!